Belli chicchi, come regalo di Natale lasciate un botto di like a questo video Se vi siete persi la prima parte, cliccate qua o ci avete il link in descrizione Buona visione chicchi No, puntata precedente in pratica c'è stato Totti che appare in sogno a Cristiano Ronaldo e gli dice se segni di romper bucio E quindi Cristiano si impara noia e cerca qualche scusa per non annar la partita E allora pensa, 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 gli viene in idea Crea un cyborg uguale a lui che partecipe alla partita al posto suo Quindi degli scienziati creano sto benedetto cyborg, è il problema che c'è un errore, è troppo forte E nella notte buia Cristiano sente bussare alla sua porta, toc toc E mo chi è a quest'ora? È mezzogiorno Oh, Aziz Amigo Come sai bello? Tutto ok, tutto ok Sei venuto a vedere la partita? Sì, esatto Ma tu non dovresti essere Sì, dovrei essere alla partita Solo che ho creato un cyborg Uguale a me che giochi al posto mio Spiegati bene Cioè tu hai creato un cyborg ed è più forte o più scarso di te? Se fosse più forte di te distruggerrebbe Roma Non ti preoccupare, già ci ho pensato In pratica si era creato un problema con il cyborg E il suo tasso di bomberismo era altissimo Ma io, grazie a una fialetta e una siringa Gli ho iniettato il DNA dei chic Della freddezza sotto porta In pratica Appena arriverà sotto porta Gli si attiverà il DNA dei chic Semplice, no? E dai, adesso vediamo sta partita Dai, dai Papà, perché c'avemo il salone di prima un'altra volta? Che mi era presa un po' di nostalgia Ho ricomprato Poi domani lo ricambiamo, dai Eccolo Ammazza, è proprio un cesso Meso mia ve niente Amico, è proprio uguale a te invece Sì, vabbè Guarda come è tar 5, piano piano Ma che è stato dall'estetista affassa la manicure? Ammazza come corre male, oh Ma che c'ha gli emorroidi, purello Che pippa Ma che è fatto di stracchino? Ma come è cascato? Non c'è niente da fare È proprio scherzo Papà, a me mi sembra proprio identico a te Chi è? Guarda che colpo di testa Ma che c'ha la testa poligonale Chi gli spigoli? Chi è, guarda Oh, dice pure lui Sono proprio una pippa Oddio, murovescia Chi è? Altro camion, Champions League Guarda che ha fatto Questo è proprio il Cristiano Ronaldo Tercinese Ma come hanno fatto? Per DNA desci che inizia a fa' se sentì Chi è? Ha presa col parastinca, ha presa Guarda che culata che ha dato Chi è, guarda che schiatto Si è fatto leva la palla Si è fatto leva la palla Per poco si sfragnava tutto Si spaccava tutte le gambe Io mi meraviglio che ancora non si sono accorti che so io quello Sì, e per chi è sto cross? Per portiere Madonna santa Che pipa Oh, un passaggio gli è riuscito però, eh Bravo Oh, oh, un famoso scherzo Oh, oh Madonna santa Meno male che gli ha apparato Oh Che te sei svegliato? Dai Roma, dai Annamoli a purga No, ho detto Annamoli No famose purga Mannaggia a Mario A Mario Portasci Tu hai cazzi Tu non ti fa mai, eh Nall'altro ieri stava a fa' i ship A i nonni Mo segna pure Contra Roma Su maledetto Attenzione papà Attenzione Attenzione Sì, ciao Prima che segna Ammannata in tribuna Ammannata Sto pippone Santo Olsen Ma che è diventato De Gea Passaggio Passaggio Che è Bello Passaggio pa' a Roma Mi sa che sto cyborg Gli hanno montati i piedi Al contrario E dovrebbe Farsi da una controllatina Purà caposcia Guarda papà Che carino Quel bambino Ha chiesto Se Ronaldo Gli lancia La maglietta Con i mani E i piedi storti Che c'ha Se gli la lancia Gli la lancia Fuori dal stadio Poi poraccio Ci si mette pure Olsen E gli sta a parate tutto Io ho dato erbe magiche A Olsen Guarda Guarda che parate Che fa Bravo Aziz Solo che Un po' di erbe magiche Gli evo di vita Pure ai portieri Che ci sono stati prima Papà Il tuo cyborg È veramente arrabbiato Questa è Sparta Attenzione È scattato Attenzione È scattato Oddio Ecco Si è sfragnato per terra Madonna Ma che è fatto Di carta pesta Amico Mi sa che il tuo cyborg È un pochino drogato Guarda come smascella Gli si starà a staccare Qualche ingranaggio Che ne so Eh no Eh no Eh no Eh no Eh no Assist contro a Roma No 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 Non può fare l'assist Contra a Roma Ma ti immagini Totti che bucio Di quello che mi fa No no Non va bene Pronto Pronto salve Sì vorrei eliminare un gol A nome di Cristiano Ronaldo Fatto pochi secondi fa Sì sono io Sì sono io Cristiano Ronaldo A posto Grazie mille Sei contento papà Il cyborg non ha segnato Io so però Purtroppo a Roma ha perso Però almeno Non è colpa mia Ora però andiamo a dormire Papà Ma che voce stranale Belli chicchi Se il video vi è piaciuto Lasciate un botto De like Condividetelo ovunque Fatemi sapere Nei commenti Che voto dareste Alla prestazione Di Ronaldo Contro la Roma Da 1 a 10 ovviamente Noi Se vediamo al prossimo video Vi ricordo Di seguirmi su Instagram Belli chicchi Ah e Buon Natale Chicchi Grazie a tutti